Un punto di vista diverso per analizzare il potere. Il cibo. Venerdì 5 ottobre, al Teatro Careni di Pieve Isoligo, si è tenuto lo spettacolo La Tavola e il Potere, in vino Veritas, in cibo Identitas. A presentarlo il giornalista Gian Antonio Stella, noto al grande pubblico per il suo libro Inchiesta La Casta, insieme al cantautore Gualtiero Bertelli e ai musicisti della Compagnia delle Acque. Un excursus nella politica e nella storia europea e italiana, che ha dimostrato come, sin dall'antichità e nelle diverse culture, i modi di assumere cibo erano ritenuti capaci di rivelare le attitudini individuali e sociali dentro una comunità. L'evento, organizzato dalla Fondazione Francesco Fabri e dalla Comunità Giovanile di Conegliano, ha avuto scopo benefico. Il ricavato della serata sarà infatti destinato al sostegno e al completamento del progetto Gli Orti di Paolo, ideato dalla stessa associazione Comunità Giovanile di Conegliano. Il ricavato della stessa associazione Comunità Giovanile di Conegliano.